buon 10 giugno 2020 e bentornati su super tv giovedì oggi flash for time 100 alternati dumbbell snatch ma ogni tre minuti vi fermate e fatte 6 toss to bar 9 bar piece e 20 double under pesi scalature sulla grafica ci vediamo domani per l'ultimo vuoto della settimana buona giornata